Ribongiorno a tutti belli e brutti, un bacione da Michelone, bacione a tutti, a tutte le brave persone come dico sempre E spiazze, 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 Vlaovic addio, addio Vlaovic E' stato purtroppo non bello, non bello ma io lo so che non è tutta per colpa tua Che lo so che metà ci hai messo del tuo ma sappiamo che forse più della metà l'ha messa lo schifoso, il solito schifoso che abbiamo in panchina E insomma perché vi dico questo? Perché ormai pare che, pare che, io pensavo che andasse il Real Madrid Ma pare che il Real Madrid ormai su Mbappé sia fatto, sia fatto quindi Perché vi dico questo? Perché Vlaovic dovrebbe andare al Bayern Monaco Perché il signorino Vlaovic ormai sui social, ormai non scappa più niente Non scappa più niente, puoi fare le cose da nascosto quanto vuoi Ma è stato beccato a Monaco in giornata Quindi penso, io penso che dovrebbe aver fatto le visite mediche Le visite mediche, quindi come vi ho detto sempre nei video precedenti Penso che l'ufficialità della cessione di Vlaovic sarà data dopo la tournée in America E quindi credo che l'arrivo di Lukaku, l'arrivo di Lukaku, a meno che, a meno che Anche questo non vada a smarnare in Arabia, dovrebbe essere imminente Perché ovviamente se dai via Vlaovic non puoi rimanere solo con Milik Sì, Milik è un buon giocatore ma è una riserva Devi prendere una prima punta di ruolo Comunque questo è, ma stanno sfoltendo, stanno facendo un buon lavoro alla Juventus Sotto traccia, senza far sapere in giro al mondo tutto quello che stanno architettando Io do un saluto a Vlaovic, ragazzi, mi dispiace perché mi dispiace Un po' dispiace, un po' sono contento perché tanto questo becca morto che abbiamo in panchina Sappiamo che anche se dovrebbe, anche se Vlaovic è un buon giocatore con questo non rende Quindi finché c'è questo schifoso in panchina è inutile tenere d'usa Quindi è il prossimo? Chi sarà? Sarà quell'altro? Chiesa? Allora Chiesa ha detto che vuole rimanere ancora un anno per dimostrare tutto il suo valore Perché insomma Chiesa ha avuto anche problemi Non è che, non che Dusan non li abbia avuti perché questa pubalgia ha avuto un anno travagliato anche Dusan Quindi sarà Chiesa il prossimo? Lo sapremo nella prossima puntata Altro, pare, 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 perché io do che sempre pare Che anche che sì, sia un affare quasi fatto Quasi fatto in prestito In prestito Che la Juventus non prende nessuno adesso Non prende nessuno Prende tutto in prestito Con diritto di riscatto Questo volevo dirvi, piccolo video, giusto per un aggiornamento Pare che ormai, sì, boh, Blauvi c'è fatto Chi sì, dovrebbe venire a fare le visite a Torino Poi altre notizie mi pare che non ce ne sono Mi pare Ultima piccola chicca Su Pogba Ragazzi quel giocatore è finito, eh Quel giocatore è finito Però addirittura sono venute fuori delle storie Che praticamente non lo mandano Non lo mandano via addirittura Perché se andrebbe a fare le visite mediche Perché lo vogliono in Arabia, no? Se lo mandano a fare le visite mediche Neanche non le passa Non le passa Ha tanti di quei problemi Quello lì Pensate che Che roba è che ha fatto Quel porco lì che è nato in Olanda Che roba è che ha fatto Se è andato a riprendersi un rottame Un rottame, no? Ma io continuo a dire Ma quando fai le visite mediche Ma tu non vedi che questo qua Non sta neanche in piedi Anche quello lì È un'incognita Che non si è mai capita un cazzo Su quel giocatore lì Questo non sta in piedi Non sta in piedi E quello sarà un grosso problema Arthur alla Fiorentina Zaccaria che mi dispiace Rimarrà in Inghilterra Ormai sicuro quest'è E poi vedremo gli altri Vedremo cosa succederà in futuro Piccoli aggiornamenti Che vi do Che vi do Senza dire sempre Sicuro Perché sicuro Lo dicono solo i cazzari Questo volevo dirvi Comunque Per finire Dusan Mi dispiace Mi dispiace Così è la vita ragazzi Quando hai uno schifoso In panchina Questo è È il prossimo Paura Io che sia chiesa Dice Lui dice Ste robe qua Voglio rimanere un altro Però Io penso che il prossimo È chiesa Preparatevi 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 Un bacione a tutti I belli e brutti Iscrivetevi al canale Campanellina Like Mi raccomando I like sotto La campanellina La campanellina La campanellina Ciao raga